Adesso siamo di fronte a delle scelte importantissime, quali la vaccinazione dei bambini. Queste scelte richiedono da parte delle istituzioni un pieno impegno e senso di responsabilità. Il fatto di avere posto ieri dei cambiamenti piuttosto forti rispetto alla normativa, le regole precedenti di gestione dei contatti e dell'isolamento, per poi nell'arco della stessa giornata tornare indietro, questo è un elemento che non infonde fiducia. Le cronache ci raccontano anche le testimonianze delle famiglie, dei genitori, che qualcosa nella macchina, soprattutto sanitaria, nel tracciamento, dopo un caso positivo, non ha funzionato, almeno fino ad oggi. Sì, alcune cose dobbiamo ammetterle con chiarezza. Nonostante lo sforzo delle singole persone, dell'istituzione, però alcune cose non stanno funzionando. Per esempio, il numero dei tamponi non è adeguato, non sono adeguati i centri, il numero dei centri in cui effettuare i tamponi stessi. E quindi, cioè, praticamente il controllo, il monitoraggio che viene fatto al tempo zero, di fatto viene fatto al T5, il T0 e il T5 vengono a coincidere perché non c'è rapidità nell'esecuzione dei tamponi stessi. Così come probabilmente sarà creata una zona, non dico una corsia preferenziale, ma una zona sicuramente a sé per i vaccini, per i bambini under 12, magari una corsia preferenziale per i tamponi scolastici forse potrebbe essere la soluzione. Sì, in parte si è cercato di attuarla, però spesso si procede con il tampone veloce e non con il tampone molecolare che poi è quello scientificamente valido e riconosciuto anche dalla legge stessa. Quindi questo servizio va potenziato perché non siamo in grado di fronteggiare la situazione nelle scuole perché questo è del tutto evidente. Però l'importanza della didattica in presenza è sempre da ricordare e quindi sicuramente questo provvedimento va in questa direzione. Il ritorno indietro di ieri in serata rispetto alla circolare della mattina e questo è stato fatto in ragione del mantenimento della didattica in presenza. Però la didattica in presenza, che è essenziale, non può diventare neppure un mantra da attuare a tutti i costi perché le esigenze sanitarie sono quelle che devono avere una priorità.